Il mattino di Puglia e Basilicata, le vangalellate di Mantarella, bruciano sulla pelle di Giorgia Meloni, il gelo con il colle dopo il richiamo del capo dello Stato sulla violenza a Pisa e poi ancora l'Italia obbligata a intervenire in Ucraina nei prossimi dieci anni. Non è esplicitamente escluso il coinvolgimento diretto nella guerra, Zeresky prepara la lista nera degli italiani che sono filo Putin e poi ancora Emiliano e De Caro che spingono le unitarie, la sfida tra la Forge sostenuto da Conte e Leccese appoggiato dal PD, così il mattino di Puglia e Basilicata.